Documenti inediti emergono dal riordino del Fondo Archivistico di Fiorenzuola di Focara e danno vita ad una mostra documentaria immersiva nello stesso borgo del San Bartolo. Inaugura sabato 4 maggio alle 17, Fiorenzuola si racconta l'Ottocento Svelato. Un lavoro a più mani coordinato da Biblioteca Oliveriana e Quartiere 6 del San Bartolo che fino a fine settembre racconterà la vita comunitaria del XIX secolo di Fiorenzuola grazie all'impegno degli studenti del Liceo Mengaroni di Pesaro e Isia di Urbino e all'Associazione Le Voci dei Libri. È una ricerca d'archivio cominciata nell'agosto-settembre dello scorso anno. Ha visto tante professionalità impegnate nella lettura di questi documenti, nella loro rappresentazione grafica, nella loro trascrizione e interpretazione vocale. Quello che abbiamo voluto fare in questo progetto, Fiorenzuola si racconta, l'Ottocento Svelato, è un'emmersione totale dell'archivio dell'Ottocento, della loro comune di Fiorenzuola. Un viaggio immersivo totale, un open space, dove grafici d'autore realizzati dagli studenti dell'Università Isia di Urbino si sposano e si associano con contenuti multimediali, in particolare con i contenuti audio. Un percorso nella storia, resa attuale da disegni moderni, ma riconducibili a un contesto storico particolarmente interessante anche della storia italiana e della storia di Fiorenzuola di Focara. Abbiamo voluto con questo progetto valorizzare il senso della comunità, una comunità e un senso di partecipazione molto presente in tutti gli atti pubblici che abbiamo trovato in questo archivio del XIX secolo. Grazie a una sinergia tra tante istituzioni e soprattutto grazie anche a un bando regionale appunto finalizzato alla riscoperta e all'inventariazione degli archivi comunali siamo riusciti appunto a lavorare su questa importante e anche consistente documentazione archivistica inedita e così abbiamo tirato fuori una buona parte della storia del comune soppresso di Fiorenzuola. L'esposizione vuole raccontare quella che era la vita quotidiana, le relazioni anche interpersonali, i personaggi anche più interessanti e anche un po' fuori dalle righe della città, del comune di Fiorenzuola e lo farà in una maniera così molto interattiva grazie anche appunto alla collaborazione con gli studenti dell'ISIA, alle voci dei libri che leggeranno i documenti e quindi sarà una bella passeggiata perché tutta l'esposizione si svolge all'aperto, sarà una bella passeggiata anche per scoprire il borgo di Fiorenzuola.